ma perchè l'hai dovuto aprire? si quelli mo scendono a vedere e muoiono ah come introdasci metteva attivato la costellata da su dai ragazzi siamo porca come si non c'è nessuno io mi fido pure di lui mi fido pure di lui e perché voi la crescita e perché voi ma che sono fiume filippo mi viene da una mano qualcuno mi viene da una mano per favore amore allora c'è un buco qua questo è bloccato e va nel magazzino preparati a 2 1 1 1 che è arrivato al magazzino ma disinnesco ce l'ho io non è un buco qua non è un buco qua non è un buco qua nasconditi 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 perché lo senti da sinistra perché senti perché che lo senti